Buongiorno, questa è la seconda lezione del 19 ottobre 2023 e continuiamo a parlare dei beni e rifugio. Questo manuale è fondamentale per difendersi da questo mondo in guerra, da questo stato inefficiente, corrotto, da questo fisco più che ingiusto. E' parziale, ecco, parziale. Acceno soltanto che nella manovra in corso di approvazione, vedremo che cosa dice l'Unione Europea su questo, è previsto che nel modello ISEE non siano computati i buoni del tesoro sottoscritti dalla persona. Ma se uno fa il modello ISEE si dovrebbe pensare che non abbia da parte in nero tanti soldi da poter sottoscrivere i buoni del tesoro. Perché dico questo? Perché dico che questo stato è ingiusto, è violento contro i più deboli. Perché favorisce i ceti forti, favorisce gli evasori. Gli evasori, in base alle risultanze del fisco, si annidano, ce ne sono anche di onesti, tra gli imprenditori, tra gli artigiani, tra i professionisti. Risulta dalle statistiche che la media dichiarata dagli idraulici è 12.000 euro. La media dichiarata dai tassisti è 16.000 euro. Vado a spanne. non dico quello che dichiarano gli avvocati che mi pare siamo sui 16-18.000 euro, ma stiamo scherzando. È evidente che questo stato corporativo, perché difende le corporazioni, questo stato guidato da questo governo realizza il sistema fascista delle corporazioni. In questo Parlamento ci sono le corporazioni dei professionisti, della mafia, dei gruppi di pressione, i quali eleggono con un sistema che io spiego nei miei precedenti saggi, i loro rappresentanti. E questi naturalmente eleggono i rappresentanti dei sindacati. I sindacati non fanno l'interesse dei lavoratori. Lo fanno anche, sì, ma soprattutto fanno il loro interesse all'autoconservazione e sindacati e partiti non hanno mai applicato, non hanno mai fatto applicare il principio costituzionale per cui sindacati e partiti devono essere sperati al principio democratico. Questo breve accenno è soltanto per dirvi che questa manovra non soltanto agevola i calciatori, ma ditemi voi, crea un regime fiscale di favore per i calciatori, per gli sportivi, che già guadagnano abbastanza, mi pare. Agevolano il nero, non colpiscono assolutamente l'evasione, non ci pensano nemmeno, ma perché? Perché la maggior parte dei parlamentari è stata eletta dai gruppi, grazie ai gruppi di pressione, ma se voi mettete insieme imprenditori, professionisti, insomma tutti coloro che non pagano le tasse, gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori dipendenti, gli unici che pagano le tasse perché le devono pagare, potessero non lo farebbero. A questo Stato che dilapida per così dire le entrate, tant'è vero che il debito pubblico è 10 minuti, il debito pubblico è alle stelle. A questo proposito integro quanto detto nella lezione precedente con queste novità. Nella lezione precedente ho spiegato che il debito pubblico italiano è sotto osservazione, tant'è vero che vedremo a fine mese, questo mese, se Standard & Poor e le altre agenzie di rating classificheranno come merita il debito pubblico italiano uguale a spazzatura. Notate che il 18-10-23 i bot decennali americani hanno raggiunto il rendimento del 4,9 che non si vedeva da decenni. Ciò significa che gli investitori sono spinti a vendere le azioni e questo spiega perché le borse stanno andando a picco e a comprare obbligazioni sicure come sono quelle dello Stato americano. Notate che quando io la volta scorsa ho parlato di speculazioni in borsa, io non do nessun giudizio morale con questa parola alle operazioni in borsa. Perché ricordatevi che in borsa i più grossi investitori in borsa erano, e in parte sono ancora, i fondi di investimento americano, nei quali ci sono i soldi delle pensioni future dei pensionati. E quindi certa gente di sinistra che parla senza capire un'acca dell'economia, certo che si scaglia contro il capitale, ma quale capitale? Il capitale delle banche? Ma il capitale delle banche è costituito in gran parte dai depositi dei risparmiatori anche piccoli. Fondi di investimento, ma là ci sono dentro i soldi con cui pagare le pensioni un domani. Detto questo ricordo che in questi giorni lo spread, il differenziale dei bond tra Italia e Germania, ha raggiunto i 205. E vedrete che entro fine mese arriverà a un livello tale per cui questo governo salta o deve essere, è l'unico Stato l'Italia, notate che lo spread a 205 è più alto di quello della Grecia rispetto, il che vuol dire che gli investitori hanno più fiducia nella Grecia che non nell'Italia. Allora a questo si aggiunga che l'Italia sta negoziando con gli altri Stati europei il cosiddetto patto di stabilità. Il patto di stabilità è in realtà un principio costituzionale anche nostro, solo che da 25 anni per ogni anno c'è una ragione, un anno il covid, un anno, che so io, qualche cosa che... insomma. E quindi tutto ciò converge verso la tempesta perfetta. Ricordiamoci che siamo in guerra. Allora, velocemente concludo ricordandovi che io in questo... mancano cinque? Ecco. Allora, ho ancora cinque. I beni rifugio sono quelli elencati qua e non li sto a ripetere. Andateveli a vedere se avete voglia. Tra i beni rifugio io accenno anche alle porcellane. Ne accenno soltanto, ma qui vorrei dire che ogni bene rifugio richiede competenza. Non andate a comprare neanche l'oro se non avete un minimo di competenza su questa materia. Non è difficile per loro farsi una esperienza. Mentre meno acquistare le porcellane. Allora, sulle porcellane c'è, ad esempio, questo libro in inglese di 2.000 in inglese di 2.000 euro. Ve lo mostro che spiega come riconoscere una porcellana dell'Ottocento, del Settecento, del Seicento, del Novecento, inizio Novecento. Allora, ve ne faccio vedere una. Ecco. questo, perché in porcellana ci sono piatti, ci sono zuppiere, c'è tutto, tazzine da caffè, che sono opere d'arte. Ad esempio questa è del marchio Norman e è del 1800. Sono funzionate, sono funzionate, ma soprattutto chi riuscirebbe oggi a fare una porcellana così, volendo imitarla? Come vedete, sono dipinte a mano, si usa anche l'oro per fare le bordature, eccetera, eccetera. Allora, voglio dire, questo è uno di quei beni rifugio che danno piacere ad averli e in caso di bisogno, in caso di necessità, possono essere venduti sicuramente a un prezzo molto maggiore di quello al quale è stato comprato. Questo manuale, ovviamente, vi aiuta, può aiutarvi a darvi una competenza su questa materia. E, sostanzialmente, questo riporta in ordine alfabetico con tutti i marchi che sono, ovviamente, impressi sul retro della porcellana. E così, ad esempio, io leggo qui, non so, il marchio Crystal, che non è più attivo. Diciamo che è stato usato dal 1882 al 1886, per cui è chiaro che dopo quella fabbrica, chissà dove sono finiti gli stampi, chissà, insomma, ha chiuso e di qui il valore intrinseco di questo bene. Io non metto nell'elenco, in questo elenco che qua faccio, è chiaro che io approfondisco qui i beni rifugio più importanti. Ne ho dimenticato uno, volutamente. Le armi. Allora, in questo periodo in cui sono in corso tre guerre. Non dimentichiamoci quella nel Kosovo, quella appena conclusa nel Nagorno-Karabakh, che è, vi raccomando, questa è una pistola al peperoncino, quelle che sono usate in Texas dagli agenti. E quando maneggiate un'arma, ovviamente, anche se scarica, va sempre puntata verso il basso. E non verso il piede, perché verso il basso, verso il parivinta. Perché l'arma è un bene rifugio? Perché può essere un salvavita? La cronaca vi dice che tutti i giorni ci sono rapine in casa.